ciao a tutti oggi prepareremo la torta calza della befana il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono zucchero semolato farina di tipo doppio zero lievito per dolci vanigliato farina di mandorle panna fresca per dolci olio di semi di girasole cacao amaro uova pasta d'arancia e sale e pasta di zucchero per decorare diametri alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e le uova ed azionare il bimbi per sei minuti 37 gradi velocità 4 senza misurino aggiungere la panna l'olio la farina di mandorle la pasta d'arancia o la scorza grattugiata di un'arancia la farina il sale il cacao e il lievito ed azionare il bimbi per tre minuti a velocità 4 versare il composto in una teglia rettangolare ben imburrata da 30 x 20 cm cuocere in forno pre riscaldato statico a 160 gradi per 45 50 minuti circa fare sempre la prova stecchino la torta è cotta lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e ritagliare trasferire in un vassoio decorare con pasta da zucchero e zuccherini abbiamo steso la pasta da zuccheri adesso la taglieremo per la decorazione continuare a decorare a piacere con una formina torta caldo della befana grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti